Gli agricoltori italiani, quelli che hanno fatto innovazione, hanno avuto una serie di iniziative di sostegno e credo che dovranno averne ancora di più e sono contento di sgarbi e colgo l'occasione perché ti volevo dire appunto che c'è questa bella campagna che si chiama Stop Cibo Anonimo e credo che ci aiuterà anche Vittorio e anche Trefiletti perché ha aderito anche lui, è una campagna fatta con codiretti, campagna amica eccetera che cerca di ottenere dall'Unione Europea e tutti possono firmare anche su internet Questa è un'altra puntata, la faremo La facciamo la posta perché noi evidentemente, per esempio i pastori sani che protestano Se ci fosse il divieto di usare latte, non l'oro, per fare il pecorino avrebbe dato un aiuto reale Ce ne siamo?